ciao a tutti ciao a tutti ciao ragazzi fischia è pasquetta oggi ma lo sapete io senza fare nulla e non ci sto moterino di fabio un mio amico che sta qui a 30 km 20 25 chilometri da me miro i miei vernici ciao ciao il bravo è un bravo questo è il gommino di sì non si può vedere però vabbè rimettiamo io lo la risuo ora io sto passando il cavo del faro posteriore cavolo e ora andiamo attaccare il cavo 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 e insieme c'è il portapacchino verniciato io e raga verniciato tutto il motorino per l'amor di dio senti questi vecchiati come bubba mettiamo le vitine 3 2 3 bellini bravino raga bellini ora devo andare a ricercare nell'altro garage le visite qua che non le trovo comunque questo vedete come viene questi poi si rimetteranno qua questo è il freno di dietro che andrà qui sotto si ripassa e chiuso però vi faccio vedere un attimino veloce veloce ci siamo veloce veloce qui ci sono messo il multivar si eleva la campana originale e si mette una campana malossi che già io ho fatto l'insennatura qui per insinire su interno fettino malossi 13 pari queste ci penserà la titi a riportarle allo splendore originale eccoli eccoli gli dati i bulloni di cosa hai visto? la lemma buona te l'ho detto io perchè alessandro non perde nulla li mette tutto insieme vero eh? Alessandro? ah si la smontavo lui il portatarga o la targhina una targhina si e lui ce l'ha qui ma io gliela volevo mettere qui ah è la più bellina no? si secondo me è più esteticamente parlando no non è più bellino è meglio se noi si mette qui si eh? metti l'attaccaio in manubrio davanti come quello nostro dai c'è il numero 2 è più bellina che io si eh? si come stai si qui si mette i tuoi sappini bianchi no devi sentire se riguarda lui va non è mia sui motorini hai ragione anche se eh? si ho capito ma cerchi i cerchi ah anzi facciamo vedere una cosa su questo comunque per essere pignoli e si deve fare un'altra cosa qui che? questo qui non è abbronzato no no questo deve essere così crumato crumato allora ora le appoggio tanto per appoggiarle anche perché vedete mancano i visi guarda è un bellino eh guarda è bellino guarda è bellino no 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 bellino ci piace ci piace ci piace ci piace ci piace ci piace si va bene tanto quando lo monti tutto si è carino no? molto bellino non ce l'ha nessuno molto bravo l'ho fatto io e la tilti e la tilti va bene io continuo qui anche questi l'ha fatti il righino l'ho deciso io però questi anti caso l'ha fatto la tiziana messa lì che questo è il solito colore dei cerchi questi erano grigi come potete vedere come questo qui poi l'ha fatto questo io lo faccio nero si che canzi puoi vedere quello sembra di voler un topo in una cantina questi erano grigi come gli ammortizzatori erano grigiosi e io l'ho fatto i neri ora facciamo un'altra cosina veloce veloce in diretta ti si fa vedere blious 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 dai blious 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 blous perché ti butti? alcol? alcol perché l'alcol? eh? perché l'alcol perché l'alcol asciuga guarda belline molto ma molto belline se su dice da morire c'entra? ma è che c'entra che dura 70 anni e noi ci si mette un po' di sapone un po' di sapone mio che addosso questo è un entra ora mi metto l'anima e pazienza e ce la faccio entrare io perchè se entra questa va di entra anche il ladro ed entra anche questa dai saluta piano piano così te la metti e che ci vuole? basta avere pazienza tutte le cose pazienza e si infili e io l'anfilo volevi vedere come l'anfilo? no io voglio andare dentro perchè è freddo guarda il vento c'è la bandierina non sono proprio spiccicate a cerchi però ci stanno bene no? no fischia se ci stanno bene vabbè un saluzione ragazzi da Mire è tutto io continuo qui a fare questi lavori va dai per dire un'altra cosa non c'è l'esca non c'è l'esca non c'è l'esca non c'è l'esca come lava come lava come lava ciao ragazzi buona casquetta a tutti mishia smicchia